Ci sarebbe un indagato per la morte di Antonello Savoglia, il commercialista fasanese deceduto domenica scorsa dopo una caduta con la sua moto da enduro sulla statale 172 nei pressi di Laureto. Si tratta di un giovane automobilista che aveva rotto la coppa dell'olio della propria auto urtando contro un sasso caduto dalla parete rocciosa poco lontano dal luogo dell'incidente. Proprio quella chiazza d'olio avrebbe provocato poi la caduta di Savoglia in prossimità della stessa roccia che costegge in quel punto la strada. L'automobilista sarebbe indagato per non aver segnalato adeguatamente la situazione di pericolo ma a sua volta aveva subito le conseguenze della caduta di quella pietra sulla strada da una roccia che evidentemente non era in sicurezza. Insomma una situazione molto complessa sulla quale inciderà notevolmente il rapporto che verrà redatto dalla polizia locale intervenuta dopo l'incidente. La salma di Savoglia dopo l'esame otoptico è stata restituita alla famiglia per i funerali nella chiesa di San Francesco da Paola a Fasano.